E' una fede, non so spiegare questa cosa, ti viene da dentro. Se mi fanno il test anti-topping, esco positivo al rugby. Siamo seduti insieme ai nostri avversari che ti dicono buona fortuna, quindi è incredibile. Sono belli, sono bravi, sono da sostenere, hanno bisogno di noi e noi dobbiamo essere qua. Qui c'è solo allegria e gioia di vivere. Perché è uno sport che ha una marcia in più rispetto agli altri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.